Buongiorno a tutti, allora, 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 inizia il tour de force dotturno del gigione Felpettina da Bruno, che freddo che fa perché dobbiamo parlare della discesa libera femminile di Like Louise del 2 dicembre 2022, quindi di una ormai quindicina di giorni fa ma piano piano le recupero tutte, adesso appena finisce il mondiale, via veloci veloci adesso oggi quattro video, partiamo con questo, news, col news e partire in seconda semifinale tutto pronto, tutto pronto, comunque, discesa libera femminile di Like Louise, 2 dicembre 2022 la prima a scendere è la norvegese Vikofli, vediamo quale sarà il tempo, il primo tempo da battere che è 1,50 e 71 perplessi, i commentatori hanno detto è scesa un attimino con frenino a mano tirato, però attendiamo di vedere la discesa delle altre tocca alla nostra Laura Pirovano, sarà lei a testare subito il valore della discesa della sciatrice norvegese non male, non male, visto che rientrava dall'infortunio e si è commossa prima si è messa quasi a piangere quando è arrivata giù in fondo, luce verde per lei è un ricomincio ricominciamo, speriamo che sia un ricomincio per tutta la stagione e che magari la brava Laura si tolga anche qualche piccola soddisfazione per il momento è prima con 58 centesimi di vantaggio tocca alla Lara Gut Berami che ogni volta che la vedo io faccio un applauso al buon Berami per averla sposata i primi due intermedi hanno fatto sperare la nostra Laura ma il terzo e il quarto alla fine la Svizzera si è presa il primo posto per 41 centesimi quindi una discesa più che discreta perché Lara Gut è comunque una buona discesista non è eccezionale ma non è nemmeno l'ultima della pista quindi dovrebbe andare tranquillamente a punti la nostra Laura Pirovano con il pettorale 6 scende la nostra Nadia De Lago obiettivo fare meglio della Pirovano obiettivo 2 battere la Gut Berami ma ahinè è solo quarta a 69 centesimi niente da fare però non è un ritardone ecco non è un mega ritardo quindi anche lei dovrebbe andare a punti la nostra Nadia De Lago che adesso vedo se è la nostra piccola o è la nostra piccolina perché mi dimentico sempre qual è la più grande delle sorelle De Lago allora ormai non la posso più dire piccolina perché il 12 novembre ha fatto 25 anni mentre invece la Nicole che adesso vediamo subito che è la sorella perché me ne confondo non mi ricordo mai quale è nata prima la Nicole è la piccola Nadia è la piccolina e la Nicole è la piccola ma ormai non le posso più chiamare così perché hanno 25 e 26 anni quindi non sono più tanto piccoline anzi ahimè il tempo passa anche per loro saranno altre quelle che chiameremo piccoline comunque ci sarà anche Nicole dopo Nadia purtroppo ha un pettorale più alto però ci sarà anche Nicole con il pettorale 7 scende la Hallen una gran bella discesa dell'altretta svizzera che è stata sempre in luce verde in un crescendo fino a prendersi il primo posto per meno 81 centesimi questa comincia a essere una discesa molto molto interessante ma con il pettorale 8 è la volta della Puckner della Puckner l'austriaca e signori miei io pensavo che la Hallen avesse fatto una discesa dal bidine mi devo ricredere perché la Puckner è riuscita a fare meglio e tra l'altro ha rifilato la bellezza di 71 centesimi alla sciatrice svizzera che già era stata bravissima che bella gara devo dire che bella gara ma signori miei adesso è lei o non è lei è lei o non è lei certo che è lei la nostra donna Jet la nostra donna Razzo la nostra donna Missile chiamiamola come vogliamo la nostra mira Sofia piripipipiri piripipipiri con il pettorale 9 scende la nostra donna Jet Sofia Goggia poi se la volete chiamare donna Razzo o donna Missile fate Vobis basta che non la chiamate donna cannone perché sennò giustamente si incazza perché non lo è ecco vediamo cosa combina la nostra numero 1 naturalmente della velocità eh signori miei chinatevi come ci si inchina la scifra ci si deve inchinare anche alla Sofi perché è prima con 35 centesimi di vantaggio e adesso vediamo chi la batte comunque dopo che sono scese le prime 15 della lista e quindi già la classifica può dico essere il cassaforte perché ce n'è ancora qualcuna brava che deve scendere però però non aggiungiamo altro comunque classifica delle prime 15 sciatrici al primo posto abbiamo la Sofi Goggia al secondo posto a soli 4 centesimi la Corinne Sutter al terzo posto la Miriam Puckner a 6 centesimi tutte lì tutte lì al quarto no la Puckner era più più distante sì era ancora più distante però magari mi sbaglio teniamolo così al quarto posto la Whedon al quinto posto la Halle al sesto posto Brazy Johnson al settimo posto la Gutmerami all'ottavo posto la Gisin al nono posto la Pirovano e al decimo posto la Mubinke mentre la nostra piccolina Nadia De Lago è undicesima anzi piccola non piccolina no piccolina piccolina perché lei è del 97 però non la posso più chiamare piccolina è 25 anni non si può più tocca la nostra Elena Curtoni pettorale 18 signori miei stava facendo una gran bella gara perché a metà o poco più della dalla fine del tracciato aveva solo 50 centesimi di ritardo centesimino più centesimino meno purtroppo come le capita spesso nel tratto finale perché tutta scorrevolezza ha perso un botto di tempo perso praticamente ha raddoppiato il distacco ma comunque si piazza al quinto posto con un ritardo di un secondo e 0,4 non male non male per la nostra Elenina con il pettorale 21 scende la nostra Marta Martissima Bassino vediamo cosa combina la nostra treta anche se è dura stare davanti alla Sofi e ad Elena è dodicesima riesce a stare davanti a Laura e Nadia quindi una prova più che discreta dai per la nostra Marta Martissima Bassino che aspetteremo però in super G con il pettorale 30 scende la nostra Nicole De Lago una buona gara della nostra piccola che termina al dodicesimo posto anche se il ritardo di 1,43 è un pochino tanto pochino ma non troppo perché con quel dodicesimo posto non è male con il pettorale 30 è tanta roba perché vuol dire comunque magari avvicinarsi sempre di più al primo gruppo di merito con il pettorale 35 scende la nostra Picler ma purtroppo pur terminando la gara non riesce ad entrare in zona punti visto che è 33 peccato tocca la nostra Roberta Melesi o Melesi con il pettorale 42 purtroppo niente da fare anche per lei fa pure peggio anche della Picler visto che è 35esima a 1,80 circa di ritardo comunque possiamo consolarci perché la gara dal bidile viene vinta da Sofia Goggia davanti a Corinsutter alla Hüther che lei sia a 6 centesimi quindi abbiamo la Suter seconda a 4 centesimi la Hüther Carolina Hüther se non erro si dovrebbe chiamare Carolina ma adesso controlliamo Hüther Hüther Cornelia scusate non Carolina Cornelia Hüther e ogni tanto mi confondo anch'io con tutti poi al quarto posto abbiamo la Miriam Puckner la Ilka Stue che è quinta la Nina Hört è sesta la Keira Widel è settima la nostra Elenina Curtoni ottava non è male non è male la Helene è donna e la Fleury è decima per quanto riguarda le altre nostre ragazze la Nicole mantiene la dodicesima posizione Nicole De Lago la Bassino è ventunesima la Pirovano è ventitresima e la Nadia De Lago è ventisettesima quindi abbiamo ben sei atlete su otto a punti Purtroppo ne abbiamo due nelle prime dieci una tra la decima e la ventesima posizione e tra la ventesima e la ventisettesima posizione però è un inizio è un inizio la prossima sarà un super gigante del 3 dicembre me la recupererò penso non oggi pomeriggio perché ho da fare ma nella serata di venerdì vi recupero anzi di giovedì della serata di giovedì vi recupero un po' di roba un po' di cosina un po' di gare eccetera eccetera in modo che piano piano ci avviciniamo a quelle che si stanno disputando in questi giorni io vi saluto vi ringrazio è un bel divertimento se vi permettete lo sci vederlo è un bel piacere vedere tutte queste belle topoline anche se sono talmente coperte che non rendono l'idea purtroppo però i visini sono belini come diceva quello là poi ragazzi miei sotto il vestito non si può vedere perché per il freddo sono talmente coperte che spuntano solo gli occhietti dai fanaloni che hanno gli occhialoni che hanno sopra ogni tanto si tendono di toglierli e vedi soprattutto quando magari la gara è andata bene vedi gli occhi che brillano per la felicità che la gara è andata bene per esempio la Hüther quando è scesa ha visto il terzo posto era lì che era felicissima nonostante 6 centesimi sono il nulla a uno magari potrebbe anche girare le scatole visto che sono donne a noi girano i testi e loro non lo so però per una ragazza che magari arriva da infortuni che magari arriva da tante discese in cui quarta quinta sesta settima ottava eccetera eccetera un terzo posto libidine comunque mi sono dilungato troppo chiedo Venia la nostra Sofi c'è come direbbe qualcuno la Sofi c'è vedremo se nella gara del 3 dicembre cosa ha combinato naturalmente voi lo sapete già ma io me le racconto lo stesso tra l'altro vi faccio il riepilogone sempre di tutte le gare di sci magari un po' in ritardo però me le faccio sempre così uno d'estate quando lì si annoia c'è caldo eccetera una bella discesa libera una bella super G uno slalom uno speciale eccetera lo rinfresca magari con la voce del gigione che fa ridere è sempre un piacere va bene ragazzoli io vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie.